Torniamo al volley perché adesso è pronto il servizio della sconfitta della Bartoccini Perugia. Vediamo. La Bartoccini gioialerie volley Perugia perde con onore la prima partita di campionato nazionale di pallavolo di serie a due femminile. Domenica pomeriggio sul parquet casalingo del pala evangelisti si è visto un match emozionante tirato fino alla fine. La Bartoccini parte un po' contratta emozionata anche dal fatto di giocare in casa subendo nel primo tempo il gioco delle avversarie. È on on u per le ospiti a fare la differenza mettendo a segno anche 5 ace su battuta. Dall'altra parte la Bartoccini è stata meno precisa del solito in ricezione. Nel secondo quarto le padrone di casa cominciano più convinte, impostano bene il gioco e si impongono 25 a 18. Ben diversa la terza frazione con un inizio equilibrato e poi con le Perugine in avanti fino al 17 a 15. Subito dopo le avversarie cambiano marcia fino a chiudere con il punteggio di 20 a 25. Decisamente coinvolgente il quarto set che cammina in perfetto equilibrio. Ai vantaggi però la spuntano le giovani del club Italia che hanno sfoderato un po' di grinta in più. Abbiamo cercato di utilizzarle in chiave sia tecnico che tattica a tutte le nostre risorse o perlomeno quanto più possibile. Abbiamo cercato di mettere in campo tutto quello che abbiamo. In alcuni momenti i cambi sono risultati efficaci, in altri sono risultati meno efficaci. Ma noi sappiamo, visto il campionato, di dover contare su un gruppo di atlete che è veramente valido. E quindi anche in questo caso la panchina ha fatto il suo, come hanno fatto i loro titolari. Si deve e si può fare ancora meglio.